Il Presidente del Consiglio, piuttosto che farsi la campagna elettorale parlando del Movimento 5 Stelle, dovrebbe parlare invece dei lavoratori di Piombino, tanto perché stavamo parlando di quello. Quindi sarebbe interessante sapere, il Presidente del Consiglio non eletto, quali soluzioni vuole mettere in campo per i cittadini. Di questo dovrebbe parlare e non del Movimento 5 Stelle. Volevo fare una domanda sui sondaggi, che in questo momento vi vedono in forte recupero. Per voi è una sorpresa oppure no? No, noi non erano neanche una sorpresa quelli dell'anno scorso, nel senso che sappiamo che non sono rappresentativi in un senso o nell'altro di quella che è la vera tendenza al voto degli italiani. Adesso ci danno in crescita, ma noi non li guardiamo perché già lo sappiamo che siamo cresciuti tanto in questo anno. E quindi per questo siamo sicuri della nostra vittoria, della vittoria dei cittadini alle elezioni europee. Se il Movimento 5 Stelle dovesse essere il primo partito d'Italia uscito dalle elezioni europee... Quando per il primo partito, anzi la prima forza politica d'Italia, andremo da Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, e gli andremo a chiedere di sciogliere le camere e mandarci alle elezioni.